cerchio firenze 77 le grandi verità ricercate dall'uomo edizioni mediterranee pagina 27 le proiezioni della volontà il pensiero è qualcosa è un canale di manifestazione di attività del pensatore così come lo è l'azione nel piano fisico e come l'azione nel piano fisico può portare o non portare i voluti effetti in dipendenza di molti fattori non ultimi fra i quali quelli karmici così è del pensiero in ogni caso indirizzare dei pensieri intenzionali nei riguardi dei propri simili non è mai un atto che cada nel vuoto spero che quello che vi dico vi stimoli ad aiutare i vostri simili almeno con il pensiero e non insegni invece ad abbreviare la fine di un ricco nababbo a chi ne sia l'erede universale disilludo subito che intendesse servirsi della forza del pensiero per questo fine il desiderio passionale annulla la proiezione della volontà così come temere che una cosa accada o desiderare che non accada ne facilita l'accadere perciò il nostro impaziente erede con i suoi desideri e pensieri intenzionalmente mortiferi otterrebbe lo scopo di allungare la vita del suo generoso testatore effetto opposto a quello desiderato queste cose vi dico perché siate consapevoli di quello che ognuno di voi può scatenare provocare perciò abbiate senso di responsabilità non siate canali di pensieri grevi apportatori di risentimento ma siate creature che anche senza volerlo esaltano le doti migliori di chi le avvicina che con l'esempio della loro vita sono un modello di riferimento per chi preferisce le azioni alle professioni di fede che pur possedendo doti meravigliose non le ostentano e preferiscono l'anonimato alla gratificante popolarità che in pisse non le ostentano e preferiscono l'anonimato alla gratificazione che siate